Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore Bene ragazzi, ho partecipato a un'asta, mi sono giudicato qualche lotto, ci sono diverse monete, qualche gettone Adesso vediamo un po' velocemente cosa mi sono giudicato E poi se vi dovesse piacere qualche moneta, qualcosa in particolare, magari la rivediamo in un prossimo video nel dettaglio Quindi adesso facciamo una carrellata veloce di questi ultimi acquisti Sono arrivate ieri sera, non ho avuto tempo di aprire tutte le confezioni E magari lo farò con calma nella giornata di oggi Allora, prima di iniziare, ricorda di cliccare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video Adesso vediamo quello che ho acquistato Piccola premessa, per gli amanti dell'euro purtroppo non mi sono giudicato nulla che riguardava gli euro Sono tutte monete oppure gettoni in argento Che come ben saprà chi mi segue da un po' è quello che amo di più Bene, allora, questa è una moneta israeliana da 10 lirot del 1971 E insieme c'è una piccola spilla La spilla però non è in argento Confezione purtroppo rotta Ma chiudiamo un occhio Alla fine è quello che mi interessa la moneta La moneta è in fior di conio però Presenta dei piccoli segnetti Quindi sarà stata toccata più volte con le mani Quindi parliamo sì di moneta fior di conio ma fino a un certo punto Va bene, mi permetto anch'io di toccarla con le mani E ve la faccio vedere un po' più da vicino 10 lirot 1971 Moneta israeliana Non è una moneta bellissima Però essendo bella pesante Si sente proprio che è massiccia Diciamo che ha un suo perché All'occhio però purtroppo Non è fantastica Chiudiamo Poi magari la confezione cercherò di sistemarla In qualche maniera Altro lotto C'erano Questi scudi Sono degli scudi portoghesi Si tratta di tre cartoncini Che ricordano un pochino le nostre coin card degli euro Monete che sono del 94 Anche questa se non ricordo male Sì, sono tutte e tre del 94 Non ricordo molto bene perché gli acquisti Cioè le aste Che mi sono I lotti che mi sono giudicato appartengono a un'asta Che si è tenuta un po' di tempo fa E quindi diciamo So quello che ho acquistato Ma non avendolo ancora visto per bene Non ricordo nemmeno io cosa ho comprato Logicamente ho la fattura con tutto E quindi poi vado a controllare Se effettivamente c'è tutto O manca qualcosa Ma a primo impatto ti dico che c'è tutto Niente, sono delle belle monete Queste sì, sono carine Poi magari se vi interessa Ne faccio vedere anche l'altro lato Però ti faccio vedere che qui Questa sorta di cartoncino Diciamo Ci sono tutte le informazioni della moneta Logicamente in portoghese E poi ecco Sono moneta da 200 scudi Qualità BNCBU Che sarebbe praticamente Il corrispondente di fior di conio Però poi scelte Monete scelte tra le fior di conio Il diametro Il peso 26,5 grammi La finezza dell'argento Sono monete in argento 925 Quindi siamo vicini all'argento puro E poi quello che sarebbe in vintage Sarebbe la tiratura E quindi parliamo di 20.000 esemplari Quindi sono abbastanza rare Anche essendo 20.000 esemplari Magari se vi interessano Le vediamo in un altro video Faccio aprire anche il cartoncino E le vediamo meglio Mi sono poi giudicato Queste 4 monete Del Belgio Non ho avuto tempo davvero Di vederle Ma mi sembrano Ben tenute 1980 Ecco qui Questa 100 franchi belgi 1954 Sì dai Se uno fior di conio Sicuramente E poi ci sono anche Queste altre due Ho detto sono 4 del Belgio Sono praticamente Identiche Andiamo avanti Qui c'è una cosa Che mi piaceva In modo particolare Non so se conoscete L'azienda Brioski Ok Achille Brioski Praticamente Anni e anni fa Parliamo Del 1950 1960 Probabilmente Fecero Dei gettoni In argento E siccome Li ho visti Me ne sono Innamorato Anche se non sono Bellissimi esteticamente Ma Sono ben tenuti Mi sembravano carini E niente Ho deciso di prenderli Questi Diciamo che Li aggiungo La mia collezione Di gettoni in argento Che magari un giorno Vi mostrerò Sono tantissimi E non sono Gettoni telefonici Logicamente Molto molto carini Potremmo dire Che sono anche Delle sorte di medaglie Ecco Però Sono gettoni E poi Un'altra cosa Che mi è piaciuta Particolarmente Sono queste Monete in argento Sono tutte Monete in argento Da 10 marchi Molto molto belle A mio avviso Ce ne sono alcune Che sono stupende Ricordano un po' Le nostre 500 lire Commemorative Infatti queste sono Tutte monete Commemorative Alcune sono Semplici monete Fior di conio Ma ci sono tante Anzi la maggior parte Sono monete Che sono Sì Fior di conio Ma sono Con Un fondo specchio E sono davvero Molto belle Magari se vi piacciono Le faccio vedere Anche queste Nel dettaglio In un prossimo video Anche perché Una delle prime cose Che farò Sarà quella Di toglierle Da questo Foglio di album Probabilmente Taglierò Tutti i cartoncini E le conserverò O in capsula Oppure Direttamente Nell'album Devo ancora Decidere Ecco C'erano diversi lotti Che presentavano Queste monete Erano monete Di diverso tipo Non erano solo queste Purtroppo Sono riuscito A giudicarmi A buon prezzo Soltanto queste qui E Diciamo Che quando si tratta Di argento Siccome c'è Una grande richiesta Non sempre È facile Acquistare A prezzi Competitivi Quindi Io quando riesco A comprare A buon prezzo Se ho le disponibilità Economiche Vado ad acquistare Come dicevo Nell'altro video Nell'ultimo video L'altro mio obiettivo Sarà quello Di comprare L'intera collezione Dei 5 E 10 Dollari Canadesi Non posso Acquistarle Al momento Sia perché Le quotazioni Della argento Sono altissime Oggi E Sia perché Avevo già affrontato Questa spesa Che Sembrano Poche monete Ma vi Vi assicuro Che non è proprio Una spesa Che si può fare Tutti i giorni Quindi Sempre cauti Con gli acquisti Parliamo di Argento Quindi comunque Parliamo anche Di una sorta Di investimento Non è soltanto Collezionismo Almeno per quello Che mi riguarda E Per il mio modo Di vedere Poi no Se andate a cercare Tra i miei vecchi video Vado a parlare Anche un attimino Di queste cose Più volte Se volete Approfondiamo Anche questo discorso Perché mi piace In particolar modo L'argento E magari Vi do anche Qualche dritta Su come comprare Dove comprare E niente ragazzi Questo è Tutto quello Che riguarda Il mio piccolo Ultimo acquisto E fatemi sapere Se vi piace Fatemi sapere Se dobbiamo approfondire Condividio Una moneta in particolare Oppure un gruppo Di monete in particolare Magari cerchiamo Di approfondire Vedere meglio Quello che ho acquistato Cos'altro dire Niente Ho visto che Mi state seguendo In tanti Siamo arrivati A un bel numero Di persone Mi fa molto piacere Come sempre Vi ringrazio Vi ringrazierei Tutti Uno per uno Però Non conoscendovi tutti Devo dire Sempre Grazie a tutti Allora ragazzi Come sempre Mi raccomando Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdere I prossimi video Un saluto a tutti Ciao